Signori, signore, prego, accomodatevi, sedetevi, adegiatevi, mettetevi comodi, lo spettacolo sta per cominciare. Non vorrete perdervelo, spero. Coraggio! Tia di scena! Ti hai fatto presente che il sipario si è aperto? Oh, siete qui! Ciao ragazzi e ragazze! E tu da quando leggi? Beh, da quando c'è qualcuno, qualcosa di interessante e valido che va a carattera conoscere. E di chi si tratta? Oggi abbiamo Oleander the Weird. Oleander the... che cosa? Questo è il suo soprannome. Silvia Carboni è il suo vero nome. E peraltro... Oggi è il suo compleanno! Che ne dici di fare gli auguri a questa ragazza? 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 Non vedo nessuna ragazza! Reggi? Ma alla regia ci stai tu o Anacleto? Dai! Ok, sì sì sì, ho capito. Vado. Eh. Silvia... Silvia... Rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale? Ups! Che c'è? Non... Non è quella Silvia! Quella sarà morta, sepolta, dissepolta, risepolta, 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 risepolta! Sto parlando della Silvia sul tubo! Cosa? Ma non era morta a stare sul tubo! Lei stava su due tubi! E comunque lei sa cantare? Eh, no! Sa doppiare? No! Sa disegnare? Nemmeno! E sa fare tutte le cose che finiscono a operare? Sì! Sa scop... Che c'è? Stavo dicendo scoppiare i palloncini! Certamente! E secondo te cosa farà per il suo compleanno? Attenderà il sabato sera! Per fare cosa? Vabbè! C'è l'intro! Se 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 Appure Raggiungerà il record mondiale toccandosi i capelli 314 volte al minuto Appure Si allenerà sulla respirazione cercando di spegnere 23 candelline in un corpo so Appure Si taglierà i capelli anche lei con una spada Tu cosa vorresti che faccia? Che non si dimetta E peraltro mi auguro che nessuno mai le venga a dire un giorno No Disney no basta per stasera basta così vattene via pirra Dai Siamo onesti Che mondo sarebbe senza la Disney? Tutti abbiamo bisogno di ridere, di scherzare E di sognare Quindi grazie All I Under The Way Un compleanno segna E peraltro Questo non doveva accadere Ecco Ricominciamo